Beh, prima l'hanno fatto, ma magari erano un po' più piccoli. E poi piccoli, quando vedi questi quadri non sono piccoli. Se vedi qua durante l'anno sono piccoli. Grazie. che cosa che cosa è? che cosa è? non ci sono a questo non ci sono queste cose non si lascia non si lascia non si lascia non si lascia no basta come si chiede? da cinque da cinque come faccio io è veloce, lì hai fatto un metro, lì hai fatto vai a un tratta no, 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 non ne vuole, mi hai fatto così quello sì, la sera cemento ma no, rompere tutto, con quello la pista è fatta no, oh boh, sì, dopo ho riparato, perché dopo ho fatto altri due giri, dopo ho terrato, non è uscito il carrello tutto dopo stendono un pochino a spagno la tupilla ho detto che devo scogliere il motore a terra guarda l'ala che era ben cliccata dentro la tupilla, quella lì ho scogliere l'ho preparato, l'ho preparato quando è spento? li vuole, con la potenza li vuole già riparato quello? sì, già riparato ah, la studente con veloce ha fatto quello ah? Ehi! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.